cacrota aspetta che la tiriamoci da qua che fosse faccia prima grazie vedi che non l'abbiamo mai fatto questo questo è quello del metano ma questo allora tu facevi il verde io ho fatto il blu perché io arrivavo da qua qua è dove è caduto il max il beccarello bravo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.